Il voucher rappresenta lo strumento di pagamento del lavoro accessorio. Lavoro accessorio da intendersi come tutte quelle attività di carattere marginale e saltuario che si caratterizzano per la loro accessorietà rispetto a quella che è un'attività principale. Il valore nominale del voucher è di 10 euro, di cui 7,5 sono corrisposti al lavoratore, mentre al lavoratore accessorio a fronte di 1,3 euro destinati ai fini pensionistici e alla gestione separata, 0,7 centesimi destinati all'Ineil ai fini della tutela contro gli infortuni e 0,50 centesimi sono destinati a pagare la gestione del servizio da parte dell'Inps.